Il comune di Napoli intitola una via a Lucio Amelio. La strada adiacente alla porta piccola del Bosco di Capodimonte avrà da oggi il nome del celebre intellettuale napoletano che fu attore gallerista d'arte contemporanea, protagonista di livello internazionale della vita culturale cittadina. Amelio portò a Napoli fra gli altri Joseph Beuys e Andy Worrell. È stato un intellettuale oltre che un grande gallerista che ha pensato a Napoli come una città a mondo, che l'ha tirata fuori dalla sua rappresentazione vernacolare e l'ha fatta diventare una soglia aperta all'arte contemporanea. Questo è un atto, la sua opera è un grande atto intellettuale, poetico e di grandissima serietà nei confronti di questa città. Noi siamo particolarmente onorati di dedicare a Lucio Amelio questa strada davanti al Bosco di Capodimonte, nei pressi del Museo di Capodimonte, un luogo che non sfigura rispetto all'importanza di questa figura, anzi la enfatizza perché appunto questo è un luogo dell'arte, dedicato all'arte, come Lucio Amelio ha dedicato la sua vita all'arte.